L'utente di nome Mindhunter mi ha suggerito di vedere un video di Joe Pizzi che si chiama Anche gli uomini soffrono? E' stata una tortura sentire questo video perchè il soggetto in questione, Joe Pizzi, come tanti maschi italiani, ha il testosterone basso e cosa ancora più raccapricciante, ha un'opinione e la pubblica e lo sentono! Pronti? Via! Salve, sono Joe Pizzi Forse vi ricorderete di me per video come... Sì, non ce ne frega niente, dice su sta cosa qua Una volta il nostro potere, il potere del patriarcato, era così forte da essere tutelato dalla legge Ma brutto zombie senza palla che magari ti sei fatto pure il vaccino Come puoi tu checca senza testosterone parlare degli uomini? Tu non sei più un uomo, tu sei un topo da laboratorio e chi ti gestisce ha cancellato in te il testosterone che ti rende uomo perchè così sei più mosce, più facile da controllare, pirla Ma 50 anni di lotte femministe hanno cambiato le cose Secondo lo zombie il meglio, sentite un po' La legge sul divorzio arrivò soltanto nel 1970 L'adulterio venne considerato reato fino al 1969 e puniva soltanto l'adulterio femminile Lo sconto di pena per aver ucciso la moglie adultera scomparve solo nel 1981 così come il matrimonio riparatore non sia quella cosa che se commettevi una violenza Topo da laboratorio, lo capisci? Che ti stanno levando la donna zombie così non ti riproduci però nella testa tua di topo da laboratorio questi sono dei grandi, grandi traguardi per la donna Oggi la legge ha perso questo patriarcato istituito mettiamolo così e siamo più o meno tutti quanti d'accordo nel dire che questo fosse un retaggio di un passato oscuro Passato oscuro? E che ne sai tu zombie? Tu sei nato in una cultura che ti mette Homer Simpson come coglione o l'uomo che deve pensare solo a divertirsi, solo a fare sesso Ma prima di questo lavaggio di cervello che vi hanno fatto con questi film ecco questa cultura, il patriarcato, l'uomo che uccide la donna non sarà che magari ci stavano meglio gli uomini e le donne? E insieme alle leggi anche le donne sono cambiate distruggendo il ruolo di schiave che le era stato imposto Ma zombie siamo diversi uomo e donna l'uomo è fatto per fare certi tipi di lavori e la donna per fare certi altri tipi di lavori zombie e non significa che se la donna non fa i lavori che fa l'uomo è schiava Coglioncello, questa idea te l'hanno messo in testa quelli che te controllano che sei un topo di laboratorio Capito? E ti hanno messo in testa che la donna è la schiava e dobbiamo liberarla ma in realtà non la liberano la distruggono, coglioncello Ancora oggi a parità di lavoro statisticamente una donna viene pagata meno di un uomo Ma salario significa schiavitù, coglioncello Un uomo libero non ha salario, pirlotto E se oltre all'uomo, cioè il fantozzi, c'è un'altra, la fantozza che è salariata Sono due gli schiavi, coglioncello Se per caso lei scopa tanto, allora non va bene Se lui scopa tanto, allora va bene perché lui conquista e lei cede Ma sì, con la cultura e i film renderemo mignotte sia l'uomo che la donna Non c'è problema, sarete uguali, ugualmente schiavi Però nella tua testa malata andare con tante donne è un segno di libertà Bravo, coglione Oppure i femminicidi, che sono l'esempio più drammatico, più estremo ma anche più chiaro di questo nostro retaggio della cultura della dominazione sulla donna Ma zombie, ci hai fatto caso perché te lo sparano in tv e nei giornali I stessi giornali che hanno mentito sulla guerra e sul V e tante altre cose, coglioncello Non ti viene il dubbio che ti sparano questi femminicidi perché c'è uno scopo, coglione? Zombie, sveglia, zombetto Ma tu ovviamente, insomma, vendi anche prodotti qua su YouTube Se non sei politically correct, non duri tanto ovviamente Una volta il patriarcato, potevamo permettercelo Nel senso che all'interno della famiglia l'uomo deteneva tutto quanto il potere economico e nessuno poteva farci niente In questo modo l'uomo, che portava il pane a casa, aveva responsabilità più importanti ma al tempo stesso aveva dei diritti di dominazione sugli altri Ma siamo sicuri che Gio Pizza è maschio? Ovviamente lo scopo del sistema è quello di mettere le mani al bambino cioè all'inizio della vita per poi modellarlo a proprio piacimento Per fare questo deve far fuori la coppia l'uomo e donna L'uomo ad un certo punto sarà inutile però lo zombetto qua non ci arriva L'uomo cattivo, ovvio Nello stato così bestiale in cui ci troviamo ora cioè in cattiveria L'uomo e la donna si trovano in una situazione non naturale Ovviamente con la cultura e con la temperatura che loro alzano per farci litigare uno con l'altro con i film e tutto anche economicamente loro riescono a metterci in contrasto uomo e donna per separarci poi alla fine ma in realtà prima di questo attacco diciamo l'uomo e la donna se veramente fossero liberi si sarebbero messi insieme cioè si mettono insieme e ognuno fa quello che è portato per sua natura di fare come ho detto prima poi ricordiamo anche che la donna ha un testosterone alto ora perché siccome siamo topi del laboratorio io lo so che tu non vuoi sentire questo per questo Gio Pizza ha 300.000 views al video perché la gente non vuole sentire queste cose qua noi siamo stati manipolati fisicamente e non siamo più come prima siamo come ci vogliono loro è ovvio che tu non ti piace questo video te ne vai da Gio Pizza e quindi tu donna all'apparenza donna e femmina e mamma di donna non c'è più niente che senti questo video anche tu ti fai incazzare questa cosa e il fatto che Gio Pizza è così senza testosterone e dice queste cose così cascandoci come un pirla è normale il maschio oggi è fatto così forse a voi vi sfugge che nella plastica delle confezioni di marda quello che chiamate cibo oggi c'è ci sono ormoni pirlotti che vi cambiano questa gente noi siamo i loro topi del laboratorio però siccome tu sei uno schiavo non vuoi sentirtelo dire che sei uno schiavo vuoi sognare fammi modellare mano che arriva dall'alto a questi topi bianchi nella gabbia modellami come vuoi tu io l'accetto il patriarcato l'uomo indistruttivo che ammazza la donna coglione zombie di merda morti siete ed è qui che questa logica patriarcale costringe noi maschi a dominare nostra moglie la donna dice la vulgata deve essere conquistata mantenuta controllata tenuta a bada e questa è la cultura da che caca che hai letto zombie e ti è piaciuta e adesso la vomiti qua ma tu ovviamente loro il compito prima lo fanno fisicamente su noi così tu poi vai siccome i tuoi ormoni sentono che vogliono questo tipo di giustificazione e leggere questi tipi di libri e vedere certi tipi di film distruttivi e poi di vomitare questi tipi di video te lo chiede la tua natura questo gioppizza quindi non è neanche colpa tua tu sei un topo da laboratorio che sei stato piano piano modificato per renderti come Hitler metteva fluoro nell'acqua per rendergli più docili i prigionieri alla stessa modo fanno con te cose che tu nemmeno puoi percepire che sei ormai già non sei più in controllo di te stesso il mondo del lavoro è cambiato la globalizzazione il neoliberismo ha sentito troppo scardovello pure questo che dovevano portare prosperità hanno portato anche delocalizzazione crisi economiche hanno distrutto il welfare e abbattuto i salari welfare zombie che io chiamo or welfare e semplicemente lo stato prende soldi per poi dartene una piccola frazione zombie è statismo puro il welfare ma questo zombie è una cosa la sua testa malata è una cosa buonissima lo stato grosso lo vuoi sapere la verità? io tuttora preferisco farmi le seghe ma certo zombie fra poco neanche quello che faranno fatta fanno fuori il zombetto topo da laboratorio l'uomo è inutile per l'oro in alto ovviamente ma come faccio a tirarla vicino a me se non ho niente da offrire in cambio? se non ho soldi se non ho una carriera se non ho un lavoro se ancora dopo 5 anni faccio degli stage da 800 euro al mese se ancora vivo in casa con i miei come faccio a risultare attraente se non ho il minimo controllo su niente nella mia vita? ecco questa cosa è il controllo siamo ossessionati dell'idea di aver perso il controllo il fatto è che non possiamo più farlo da un punto di vista affettivo sentimentale non possiamo più controllare nessuno da un punto di vista lavorativo e di nuovo questo è un sistema economico che ci ha schiavizzati di fatto ma questo argomento lo affrontiamo un'altra volta cioè mai perché dire che sei uno schiavo a chi ti sente non fa molto piacere e non si vende così il punto è perché affossarci ancora a questa idea che abbiamo perso il controllo e dobbiamo riagguantarlo quando il mondo è andato avanti perché non liberarcene? mi ricordo un po' Klaus Schwab con la sua non avrai niente e sarai felice perché vuoi essere in controllo? cioè lo schiavo ti dice ma perché vogliamo essere in controllo come prima? era brutto impatriarcato quando eravamo in controllo è meglio sì adesso siamo schiavi e ne parleremo nel prossimo video che non farò mai però si sta bene così per renderci conto che possiamo vivere senza dominare nessun altro per renderci conto che non abbiamo bisogno di dominare di fottere la vita per essere felici che abbiamo anche noi il diritto a chiedere aiuto certo lo Stato si occuperà di te maschio vegetante al tramonto e siete già morti ovviamente ragazzi abbiamo visto il grande grande Joe Pizza